Come risolvere così? Il problema riguardo impossibile cedere ai servizi online di Fortnite è un problema di connessione, connessione instabile quindi se stai usando una wifi che sta avendo problemi quindi è instabile ti consiglio anche di usare un cavo Ethernet, un cavo LAN da collegare al modem e lo colleghi al computer e risolverai il problema su Fortnite. Io uso sempre il cavo Ethernet per non avere problemi di connessione e questo era il primo metodo. Come secondo metodo ti posso solamente spiegare riguardo ai tre puntini quindi vai direttamente nella libreria di Epic Games, vai sui tre puntini, vai su gestisci e prova a fare così la verifica dei file. Se non dovesse bastare puoi semplicemente andare direttamente nella cartella, vai su Fortnite Game, vai su Binarys, Win64, scendi fino a giù fino a trovare così le tre applicazioni di Fortnite. Quindi cancella queste tre applicazioni di Fortnite, svuota anche il cestino e poi fai la verifica al gioco. Mentre sta facendo così la verifica andiamo direttamente su esegui, scrivi su questa schedina esegui per cento facendo shift più 5 file per cento, app data per cento e fai ok. Vai in app data qua sopra, local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite Game. Vai in save, config, queste sono tutte le configurazioni che hai fatto su Fortnite, ovviamente Crash Report Client, Windows Client, tutti questi settaggi che hai messo sulla grafica, sulla sensibilità del mouse, tutte queste cose qua. Quindi quello che ti consiglio è di prendere questa cartella, metterla sul desktop, cancellare la cartella dei crash, cloud, mettila sul desktop e basta. Torniamo un attimo indietro. Ora proviamo ad avviare Fortnite senza queste due cartelle. Avvia Fortnite, ovviamente vai sui tre puntini, gestisci, vai nella cartella, Fortnite Game, Binaries, 1.64. Fortnite Client, 1.64 Shipping, tasto destro sopra, mostra attrapezioni, proprietà. Compatibilità, compatibilità, esegui questo programma come amministratore e facciamo applica. Se non si avvia tenendo questa spunta attiva, toglila e fai ok. Lo avvio sempre in modalità DirectX 11, trattino D3D11 e faccio avvia. Il gioco si è avviato senza nessun problema grazie anche ai metodi che ti ho spiegato all'inizio e anche il capo Ethernet che devi usare al posto della Wi-Fi per non avere sempre problemi di connessione. Quindi, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!